fratelli e sorelle nel Signore questa sera voglio parlarvi di un argomento che è tra quei temi caldi all'interno dell'evangelismo all'interno dell'ambiente evangelico all'interno dell'ambiente cristiano questo argomento è molto acceso il titolo dell'argomento di oggi è che alla donna non è permesso di insegnare la parola di Dio e la donna deve stare soggetta all'uomo queste sono cose purtroppo a cui molti non si attengono sia uomini che donne perché anche queste cose sono insegnate nella parola ed ora vedremo cosa dicono le scritture sono cose che sono insegnate nella parola la parola deve essere messa in pratica nella sua totalità possibilmente non bisognerebbe fallire mai quindi bisogna mettere in pratica tutto quello che è scritto e bisogna conoscere quello che è scritto bisogna conoscerlo così come scritto quindi se c'è scritto che alla donna non è permesso di insegnare che la donna deve stare soggetta all'uomo se c'è scritto chiaramente un altro, un qualcuno che vuole insegnare il contrario di quello che è scritto deve venire con dei passi della scrittura che sono altrettanto fermi e forti come quelli che insegnano dispongono che la donna non può insegnare e che la donna deve stare soggetta all'uomo e andiamo subito alle scritture noi leggiamo in prima Corinzi 14 cominciamo con questo passaggio passaggio biblico di Paolo allora leggiamo al capitolo 14 al versetto 26 leggiamo questa premessa che dunque fratelli quando vi radunate avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o una interpretazione facciasi ogni cosa per l'edificazione quindi vedete qui in questi versetti del capitolo 14 dal versetto 26 l'Apostolo Paolo sta dando un certo ordine che riguarda il comportamento che bisogna tenere quando ci si riunisce per rendere il culto al Signore quando ci si riunisce per lodare e glorificare il Signore anche se siamo in una casa nel locale di culto dovunque siamo che si trattano gli argomenti che riguardano il Signore l'insegnamento la lode a Dio e tutto quello che riguarda il culto che viene reso al Signore Dio che ha fatto i cieli e la terra Paolo dà appunto direttive direttive di come bisogna comportarsi e ne dà diverse ma a noi interessa leggere quello che c'è scritto al versetto 34 perché tra le altre cose che l'Apostolo Paolo ha stabilito che poi in un altro momento discuteremo perché sono tutte cose importanti anche altre cose sono là scritte come bisogna comportarsi ma non vengono osservate tra altre in e non vengono osservate ci sono quelli che l'osservano e quelli naturalmente che non le osservano noi crediamo che la parola di Dio va osservata nella sua complessità quindi nella sua totalità di conseguenza vanno osservati sia ad esempio faccio un esempio per farvi capire che l'Apostolo Paolo disciplina il comportamento anche su altre cose quando ci si riunisce ad esempio al versetto 27 c'è scritto se c'è chi parla in altra lingua siano due o tre al più a farlo e l'uno dopo l'altro e uno interpreti e se non vi è chi interpreti si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi e a Dio nelle comunità pentecostali non avviene questo perché qui è scritto che devono essere due o tre al più a parlare in altre lingue e non tutti insieme ma c'è scritto che devono essere uno dopo l'altro e si deve interpretare se c'è chi interpreta tali parlare in altre lingue devono essere interpretati ma se non c'è chi interpreta non bisogna parlare in altre lingue pubblicamente ma ognuno parli a se stesso e a Dio quindi vedete sta scritto anche questo ed è chiaro è chiarissimo vedete com'è chiaro eppure in certe comunità non si pratica questa parola ma vi ho citato questo come esempio per farvi capire che qui l'Apostolo Paolo sta mettendo ordine a quello che bisogna fare quando ci si riunisce tra le altre cose tra le altre cose che bisogna fare c'è anche questa che adesso leggiamo al capitolo al capitolo 14 versetto 34 più avanti leggiamo queste parole come si fa in tutte le chiese dei santi tacciansi le donne nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare ma debbono stare soggette come dice anche la legge vedete qui Paolo questa epistola la scritta Corinto per mettere ordine alle cose che avvenivano a Corinto va bene avvenivano determinate cose a Corinto ma sono state scritte quelle di Corinto ma guardate bene avete letto cosa è scritto qui come si fa in tutte le chiese dei santi vedete quindi alcuni cercano di annullare cercano di annullare diciamo l'ordine biblico di Dio che dice che la donna si deve tacere quando c'è una riunione quando c'è tacere dal punto di vista che non può fare domande dal punto di vista che non può insegnare che non può citare passi biblici perché alcune cose le può dire anche una donna può cantare può raccontare una testimonianza può profettizzare può raccontare una rivelazione che Dio gli ha dato un sogno una visione capite questo lo può fare lo può fare il divieto riguarda nel parlare quel parlare rivolto a insegnare o a fare domande sugli insegnamenti quando si è quando si è riuniti diciamo per rendere un culto al Signore per dare gloria a Dio con un culto quando si è in un'assemblea e comunque si anche se si è in pochi se ci sono degli uomini è preferibile se stanno parlando se si sta parlando del Signore è preferibile non fare neanche domande possibilmente voglio dire se viene concesso senza che nessuno si scandalizza come facciamo alcune volte si può anche dire avanzare non ho capito questo e poi si attiva si accende un discorso però la scrittura dice questo che possibilmente quando ci si è riuniti per rendere un culto al Signore ci si riunisce per dare gloria a Dio la donna deve tacere perché così è stabilito e poi vedremo vedremo anche altre argomentazioni anche le motivazioni che sempre l'Apostolo Paolo poi scrive a Timoteo in questo passaggio voglio farvi notare due elementi molto importanti uno l'abbiamo già citato come si fa in tutte le chiese quindi se uno vuole annullare questo passaggio vuole diciamo contrastare l'ordine stabilito da Dio non può trovare come giustificazione quello di dire che queste cose riguardavano solo Corinto solo certe culture certe cose perché non è vero perché Paolo qui dice come si fa in tutte le chiese vedete quello che è scritto mi sembra che si capisca bene non c'è non stiamo dicendo qualcosa che l'abbiamo estrapolata chissà da dove come si fa in tutte le chiese dei santi quindi la donna alla donna non era permesso di insegnare di parlare di fare determinate cose non era permesso in tutte le chiese dei santi è chiaro perché magari si permetteva in certe chiese in certe riunioni che però non c'erano i santi ecco infatti se si trasgredisce se si trasgrediscono i comandamenti di Dio bisogna andare a vedere se viene insegnato contro la parola di Dio bisogna vedere se si tratta della chiesa dei santi o di chi si tratta comunque i santi in un luogo dove non viene insegnata la parola di Dio dove dove non viene insegnato tutto il consiglio di Dio così come scritto come stabilito da Dio quei santi che sono là in mezzo cosa ci stanno a fare devono uscersene ecco perché da certi ambienti i santi se ne devono uscire perché non è il loro posto là come si fa quindi abbiamo visto e come si fa in tutte le chiese dei santi tacciansi le donne nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare ma debbono stare soggetti come dice anche la legge vedete non solo ha detto inizialmente l'apostolo Paolo ha scritto come si fa in tutte le chiese ma termina quel versetto lo termina dicendo come dice anche la legge perché perché anche nella legge la donna non poteva insegnare la parola di Dio non poteva diciamo insegnare i comandamenti di Dio la legge di Dio la donna non gli era non gli era permesso e quindi Paolo citta la legge perché guardate bene che la legge è buona è santa Gesù non è venuto ad abolire la legge fate attenzione Gesù è venuto a compiere la legge ad adempiere la legge che è un'altra cosa e nella legge erano contenute la figura le ombre delle cose che dovevano venire è chiaro che una volta scoperta la realtà delle cose quello che è un'ombra è cessato i sacrifici che erano che si facevano che erano ombra del sacrificio di Cristo sono ormai oggi sono cessati sono passati perché perché è diventata realtà oggi vediamo la realtà cioè il sacrificio di Cristo è stato quello che ha purificato dai peccati e il sangue sparso da Gesù Cristo nella croce è ancora efficace oggi perché il suo sacrificio è stato un sacrificio perfetto quindi non c'è più bisogno di ripeterlo perché era perfetto quindi non c'è bisogno più di ripetere i sacrifici di diciamo di sacrificare degli animali quindi queste cose la scrittura le ha tolte vedete quindi dove la scrittura dove la legge dove è stata apportata con la venuta di Cristo con l'annunzio dell'Evangelo diciamo con la buona notizia a tutte le genti della salvezza per mezzo della fede in Cristo Gesù dove la legge è stata modificata la scrittura ce lo fa sapere ce l'ha fatto sapere è scritto ma ci sono anche delle cose della legge che non sono cambiate capite ecco quindi perché è scritto in un punto delle scritture che si può fare uso della legge se si fa un uso legittimo naturalmente se si fa un uso che è corretto è giusto davanti a Dio e infatti ci sono delle cose che provengono dalla legge e ancora noi oggi dobbiamo praticare ad esempio ad esempio l'idolatria l'idolatria viene dalla legge vi ricordate il secondo comandamento che non bisogna adorare servire gli idoli e quello viene dalla legge quel comandamento non è cessato capite così come gli altri comandamenti di onorare il padre la madre di non uccidere non rubare capite tutto questo è rimasto tutto ciò è rimasto ci sono diverse cose nella legge che vengono sono state trasportate sotto la grazia quindi sono ancora vigenti vengono vengono ancora ad esempio nella legge c'era scritto anche che non si poteva mangiare carne di animali impuri ma poi Gesù cosa ha detto Gesù ha detto che non è quello che entra nel nella bocca che contamina l'uomo ma quello che esce dal suo cuore dicendo così faceva tutti cibi puri ecco quindi che noi oggi siamo liberi di mangiare qualsiasi cibo quindi non ci sentiamo contaminati dal mangiare la carne di maiale o i mitili perché la scrittura ci dice che lì possiamo mangiare è chiaro Gesù è stato chiaro quindi capite ecco perché perché la legge va studiata anche la legge però bisogna prendere quelle parti che sono ancora vigenti cioè la cui imposizione la cui effetti devono sentirsi ancora oggi ad esempio la legge vietava di mangiare il sangue e questo vale ancora oggi infatti lo leggiamo in atti 15 leggiamo che leggiamo che si sono riuniti per stabilire quali erano le cose della legge da imporre ai gentili e noi leggiamo al capitolo 15 di atti che le cose che è uscito fuori che hanno stabilito che dovevano essere imposte erano queste dice così capitolo 15 versetto 28 di atti degli apostoli poiché è parso bene allo spirito santo ed a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue dalle cose soffocate e dalla fornicazione dalle quali cose ben farete a guardarvi state sani quindi vedete alcune cose della legge che erano osservate sotto la legge devono essere osservate obbligatoriamente anche sotto la grazia cioè il fatto che Gesù è venuto ed è iniziata diciamo un'epoca di grazia da parte di Dio non vuol dire che siamo liberi siamo senza legge cioè Cristo Gesù ha crocifiso diciamo che nel corpo di Cristo è stato crocifiso anche la legge diciamo è stata tolta di mezzo la legge cioè la salvezza secondo la legge è stata tolta di mezzo questo sì però adesso non è che siamo senza legge cioè sotto la grazia noi dobbiamo comunque osservare dei comandamenti che Gesù ha dato che la parola ci insegna li dobbiamo osservare alcuni di questi insegnamenti provengono dalla legge e li dobbiamo osservare e quest'uso faceva l'Apostolo Paolo ne faceva appunto questo uso cioè citava la legge quando doveva citarla quando era ancora da applicare sotto la grazia ecco perché in quel passo che a noi ci riguarda quando dice come come dice anche la legge capite perché sotto la legge la donna non era permesso di insegnare la legge non era permesso di insegnare i comandamenti di Dio e quindi Paolo fa riferimento alla legge per ricordare che alla donna in precedenza non era stato possibile insegnare e Dio non lo aveva stabilito ma Dio aveva stabilito sotto la legge che potevano insegnare che potevano insegnare la parola gli uomini in particolare quelli della tribù dei Leviti che adesso andiamo a leggere appunto una benedizione di Mosè che ci fa capire che ci fa capire dobbiamo andare che ci conferma diciamo l'uso corretto che l'Apostolo Paolo ha fatto della legge noi leggiamo in Deuteronomio al capitolo 33 al capitolo 33 leggiamo capitolo 33 il primo versetto per capire il contesto leggiamo i primi due versetti or questa è la benedizione con la quale Mosè uomo di Dio benedisse i figlioli di Israele prima di morire disse dunque ora Mosè pronunciò una benedizione per tutte le tribù va bene a ogni tribù diede una sua particolare tipo di benedizione che lo riguardava ma guardate a Levi adesso andiamo a leggere al versetto 8 da 8 a 11 leggiamo la benedizione che Mosè diede a Levi che era una delle dodici tribù di Israele quindi Mosè benedisse le dodici tribù di Israele disse a ciascuno diede a ciascuno una sua benedizione e queste erano le parole che riguardavano Levi Levi perché Levi era la tribù la tribù stabilita da Dio che non doveva occuparsi di lavorare ma di servire il Dio nel tempio nel tabernacolo capite e tra le cose che dovevano fare i Leviti c'era quella di insegnare la parola di Dio al popolo quindi il Dio tra le dodici tribù ne scelse una e gli uomini di quella tribù li scelse come sacerdoti li scelse come serviti come quelle persone che dovevano come persone che dovevano servire al tabernacolo dovevano servire per il culto e dovevano servire le altre undici tribù capite quindi Mosè disse queste parole i tuoi tummim e i tuoi urim appartengono all'uomo pio che ti sei scelto che tu provasti a massa e col quale contendesti alle acque di Meribà egli dice di suo padre e di sua madre io non li ho visti non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figlioli perché i leviti osservano la tua parola e sono i custodi del tuo patto essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele mettono l'incenzo sotto le tue nari e l'olocausto sopra il tuo altare o eterno benedici la sua forza e gradisci l'opera delle sue mani trafiggi le reni a quelli che insorgono contro di lui che gli sono nemici sì che non possano risorgere vedete tra le benedizioni che Mosè dà in riferimento ai levitici è appunto questa che dice che diciamo sono i custodi del tuo patto infatti i leviti erano quelli che custodivano i rotoli della legge che custodivano il libro della legge ed erano coloro che insegnavano gli statuti i comandamenti di Dio a tutta Israele vedete erano i leviti e questo questo dice la legge questo aveva stabilito il Dio sotto la legge non era neanche dato a tutti a tutti gli uomini di tutte le tribù insegnare la parola era dato solo alla tribù dei leviti e agli uomini della tribù dei leviti Paolo che conosceva bene queste cose nel nel spiegare ai corinti che la donna perché scrisse quelle parole per mettere ordine al culto che i corinti che i corinti diciamo tenevano per mettere ordine ha scritto appunto queste parole facendo riferimento anche alla legge quindi Paolo ha fatto un uso della legge in maniera corretta perché la legge così diceva e Paolo l'ha citata e dicendo che così si fa in tutte le chiese e così si era fatto sotto la legge vuole dire ancora oggi si deve fare esattamente così quindi alla donna non è permesso di insegnare se voi vedete da qualche parte una donna che insegna la parola una donna che fa la pastoressa o è un anziano e comunque diciamo si applica a insegnare la parola di Dio voi dovete sapere che è contro la parola di Dio quel tipo di quella tipo di opera fatta da quella donna è contraria ai comandamenti di Dio quindi dovete sapere che è una cosa diciamo sicura che quella donna a pasturare a insegnare la parola non l'ha messa il Dio state tranquilli è sicuro questo perché il Dio non contraviene alle sue stesse parole cioè in Dio non c'è ombra di rivolgimento non è che si contraddice un uomo si può contraddire perché fallace perché non si ricorda quello che ha detto ieri ma l'iddio vivente è vero che è il verace egli non si può contraddire capite non può aver detto che la donna non può insegnare oggi la costituisce come pastoressa o come anziano o come apostolo capite alla donna sono aperti altri incarichi non è che la donna non fa niente guardate bene alla donna non è che non fa niente alla donna sono aperti altri uffici ad esempio l'ufficio del diacono diaconessa che ai diaconi non è richiesto la capacità di insegnare il dono di saper insegnare la parola di Dio quindi al diacono non è richiesto e allora ecco la donna può diventare diacono può servire può servire nella chiesa può fare determinati servizi l'assistenza ai malati ai poveri qualsiasi tipo di servizio di tipo pratico capite i diaconi possono essere sia uomini che donne al diacono non è richiesto non è richiesto di la capacità di insegnare a differenza degli anziani l'ufficio dell'anziano tra le caratteristiche che deve avere l'anziano è quella obbligatoria di avere la capacità di insegnare capite ecco perché la donna non può essere anziano perché l'anziano deve essere capace ad insegnare e quindi deve insegnare non è che l'anziano non deve insegnare di conseguenza la donna non può assumere quel tipo di ufficio vedete dunque che la donna però può fare altri servizi può diventare diaconessa nella Bibbia sono scritte ci sono diverse diaconesse e può anche la scrittura insegna appunto sotto la legge insegna che diciamo può ricevere il ministerio e sì perché può ricevere anche un ministerio la donna è il ministerio di profeta è il ministerio di profeta è proprio un ministerio come lo è quello di pastore di apostolo di evangelista e di dottore un ministerio che Gesù stabilisce stabilisce un uomo stabilisce una donna in quel ministerio nel ministerio di la donna può essere stabilita nel ministerio di profeta il profeta è colui che consulta il Dio riceve rivelazioni e parole da Dio e poi le gira al popolo capite? cioè ha una comunicazione aperta in modo particolare con Dio e quindi è un grande ministerio anche quello cioè non c'è solo il ministerio di pastore o di dottore ma la donna quindi gli ha aperto questo ministerio se una donna vuole servire il Signore vuole diventare un ministro di Dio ma è giusto lo può desiderare lo domanda al Signore e il Signore se nella sua volontà la stabilirà nel ministerio di profeta dove avrà un canale aperto una sorta di canale preferenziale dove sarà in continua comunicazione con Dio per riportare i messaggi che Dio darà al popolo e a determinati fratelli singolarmente parlerà con i profeti e i profeti riporteranno quello che Dio ha stabilito che Dio può o parlare direttamente lui alla persona interessata può farlo può fare come vuole ma ha stabilito anche che lui parli diciamo alle persone attraverso i suoi profeti capite quindi si può fare anche può avvenire la comunicazione di Dio al suo popolo può avvenire anche in questa maniera quindi vedete la donna non è che non può fare niente ce ne sono tante di cose da fare ce ne sono tante che anche la donna è dato di fare determinati servizi e di ricevere un particolare ministerio quello di profeta però non può insegnare la parola perché il profeta allora se è un uomo il profeta ed ha la capacità di insegnare allora può anche insegnare capite però una donna che è profetessa non può non può insegnare la parola perché Paolo l'ha vietato l'ha vietato e lo conferma adesso leggiamo e ne spiega anche le motivazioni noi leggiamo in prima Timotio al capitolo 2 anche le epistole che Paolo ha scritto a Timotio le ha scritte perché Timotio doveva rimanere nella città di Efeso questo lo dice al versetto capitolo 1 versetto 3 dice ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia quando di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnano dottrina diversa né si occupino di favole e di genealogie senza figli le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede quindi Timotio aveva ricevuto da Paolo l'incarico di rimanere a Efeso per svolgere determinate cose tra le cose quindi che Paolo fa sapere a Timotio che doveva badare che non avvenissero appunto lì a Efeso c'erano anche queste che adesso leggeremo che riguardano la donna al capitolo 2 di prima Timotio al versetto 11 dal versetto 11 in poi stanno scritte queste parole la donna impari in silenzio con ogni sottomissione poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito ma stia in silenzio perché perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia qui Paolo vedete anche a Timotio che insegnava che era a Efeso ed insegnava a Efeso quindi quindi a conferma del fatto che che la donna non poteva insegnare veniva veniva diciamo insegnato in tutte le chiese dei santi come abbiamo letto prima anche a Efeso anche a Efeso Paolo ha dato direttive a Timotio che doveva doveva insegnare questo doveva fare in modo che le donne non insegnassero perché perché Paolo era coerente nell'insegnamento quello aveva imparato da Gesù Cristo quello aveva imparato da Dio quello aveva imparato studiando anche la legge e quello insegnava è così ma se l'hanno insegnato agli apostoli questo è così dobbiamo insegnare noi dobbiamo credere e dobbiamo a nostra volta trasmettere agli altri quando ne abbiamo la possibilità o come insegnamento o come testimonianza chi non può insegnare lo trasmette però come testimonianza chi invece può insegnare gli uomini che possono insegnare queste cose le devono insegnare perché questo fa parte del consiglio di Dio che oggi viene molte volte disprezzato rigettato ma qui non si sta disprezzando un uomo qui non si sta disprezzando noi che lo diciamo qui si disprezza la parola del Dio vivente vero così come si può disprezzare un altro tipo di comandamento c'è questo c'è tra i comandamenti che Dio ha stabilito ci sono questi ce ne sono altri e ci sono anche questi quindi non bisogna disprezzare né gli altri comandamenti ma e non dobbiamo disprezzare neppure questo qui che è ordinato alla donna di non parlare di essere sottomessa all'uomo e di non insegnare cioè alla donna è ordinato di imparare in silenzio così è stabilito nella parola non permetto vedete dice poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito un'altra cosa che la donna non deve assolutamente fare è quella di usare autorità sul marito allora il marito deve essere un esempio di condotta e di fede nella famiglia nella famiglia in ogni luogo dove si trova e la moglie non si deve assolutamente permettere di usare di sgridare il marito di usare autorità di sollevare la voce contro suo marito non può farlo non lo può fare perché così è stabilito da Dio capite non è che lo diciamo noi perché siamo uomini se fosse scritto diversamente avremmo detto diversamente ma stanno scritte queste parole e queste parole dobbiamo dire perché? perché noi noi amiamo noi crediamo che la Bibbia sia la parola dell'iddio vivente vero e quindi non dobbiamo modificarla né cambiare nulla c'è scritto anche questo e anche questo insegniamo se c'era scritto che la donna poteva insegnare se ci fosse stato scritto ipoteticamente e noi avremmo detto quello non è che non è che voglio dire quello ci avrebbe danneggiato come non ci danneggia neppure adesso sì forse ci attira degli insulti ci gridano contro che siamo maschilisti che che i tempi sono cambianti che siamo retrogradi che noi siamo giurassici qualcuno dice che siamo dei dinosauri dell'evangelismo ma a me non mi importa come mi chiamano io voglio essere chiamato da Dio cioè io voglio essere chiamato amministratore fedele da Dio capite amministratore di tutto il consiglio di Dio è questo che io voglio voglio che Dio abbia pietà di me e non mi addebiti contro il fatto che io ho nascosto delle parti o non le ho insegnate oppure le ho insegnate al contrario questo no non posso farlo perché io voglio io credo come anche tanti altri fratelli e sorelle vogliono piacere a Dio e allora atteniamoci a quello che è scritto nella parola e anche a queste cose lo so che il mondo va verso una direzione fratelli il mondo va verso una direzione la chiesa deve andare verso un'altra direzione non può andare nella stessa direzione dove sta correndo il mondo la chiesa deve andare in un'altra direzione cosa succede che a volte le strade si incrociano e si scontrano ci si scontra e il mondo fa pressione dentro la chiesa per affinché accettino il loro le loro pratiche le loro pratiche disordinate malvagie per contaminare la chiesa capite è il maligno che fa pressione dentro la chiesa affinché si accettino i suoi comandamenti i precetti che si è inventato il diavolo per contaminare la chiesa rallentarne la corsa e farla cadere a terra e se siamo in guerra il maligno vedete fa pressione una leva molto importante di cui fa sempre uso il maligno è la donna capite il femminismo l'emancipazione perché il Dio stabilito diciamo come persone siamo singolarmente ognuno indipendente quindi ha una vita sua singola ma poi siamo immersi in un contesto che è familiare quindi siamo immersi in un contesto familiare e Dio ha stabilito delle regole sia di comportamento singolo del singolo sia nel comportamento familiare sia nel comportamento tra l'uno e l'altro e Dio ha stabilito che tutti dobbiamo essere soggetti ai magistrati e alle autorità non è che ci ha detto il signore che tutti i credenti sono liberi dalle autorità no siamo tutti sottomessi naturalmente fino a quel punto in cui fino a quel punto in cui l'autorità non ci non va contro i precetti della parola perché se ci ordina di non pregare Dio di non parlare di Gesù Cristo ci ordina di non evangelizzare è chiaro che noi siamo chiamati a disubbedire ma per tutto il resto dobbiamo obbedire alle leggi stabilite dalle autorità che sono state fatte per mantenere un certo ordine nella vita sociale nel vivere in gruppo ci vogliono dei comandamenti degli ordini ci vuole un certo ordine ecco quindi che noi siamo chiamati a essere un esempio anche in questo quindi vedete siamo sottomessi alle autorità i giovani devono essere sottomessi agli anziani tutti devono essere sottomessi alle autorità costituite da Dio ad esempio pastori profeti quelli che Dio ha stabilito bisogna che siano sottomessi cioè che siamo sottomessi gli uni agli altri naturalmente sempre nel Signore non non in tutto cioè non è che siccome uno è un pastore oppure un anziano si deve obbedire a tutto quello che dice anche quando quando dice qualcosa di antibiblico no? perché tutti la sottomissione in ogni cosa e l'obbedienza vale sempre e soltanto in ambito delle cose che il Signore ha stabilito capite? sei un anziano anche se io sono pastore ti dico vai a rubare portami soldi capite? questo dobbiamo disubbidire quindi non dobbiamo stare soggetti a queste cose qua ma nel Signore invece dobbiamo essere dobbiamo essere sottomessi quindi vedete ad esempio i domestici i domestici cioè devono essere soggetti al proprio dattore di lavoro al proprio padrone qui la scrittura lo chiama il padrone oggi coloro che lavorano che sono lavoratori dipendenti faccio un esempio o che hanno comunque una certa gerarchia al lavoro quelli che hanno una gerarchia sopra di loro devono stare soggetti capite? devono lavorare come se il padrone fosse sempre presente cioè non devono frodare il loro padrone quindi vedete siamo tutti in una certa maniera soggetti a qualcuno e a qualcuno la donna per quanto riguarda la donna è stabilito che la donna deve essere soggetta all'uomo l'ha stabilito il Dio il Dio ha fatto l'uomo e ha fatto anche la donna e ha stabilito che la donna deve essere soggetta all'uomo e quindi se l'ha stabilito il Dio che ha fatto l'uomo e la donna e così deve essere e qui Paolo l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo ne scrive le motivazioni per il quale la donna deve stare soggetta all'uomo e che abbiamo letto dice perché Adamo fu formato il primo e poi Eva cioè il Dio non fece prima Eva e poi Adamo ma fece prima Adamo e solo dopo per assistenza come aiuto fece Eva la fece dopo in assistenza dell'uomo e questo è uno dei motivi per il quale Dio ha detto che la donna deve stare soggetta all'uomo un altro motivo che sempre Paolo cita a Timoteo è questo che dice ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione capite? quindi un altro motivo è quello perché fu la donna che cadde in trasgressione per prima cioè fu sedotta dal serpente antico dal diavolo fu sedotta dal diavolo la donna la donna poi sedusse l'uomo questo è vero ma la donna fu sedotta per prima e fu sedotta dal diavolo e quindi questo è uno dei motivi per il quale la donna deve stare soggetta all'uomo ora se noi andiamo a leggere in Genesi vediamo quando il Dio fece la donna e poi vediamo anche quando la donna peccò cosa è successo quindi noi leggiamo allora capitolo 2 di Genesi versetto 18 sta scritto poi l'Eterno l'Iddio disse non è bene che l'uomo sia solo io gli farò un aiuto che gli sia convenevole e l'Eterno è Dio avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe e l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame agli uccelli dei cieli ad ogni animale dei campi ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole quindi vedete tra gli animali non c'era nessun aiuto per l'uomo conveniente aiuto sì ma non quello conveniente come diciamo ne aveva veramente necessità l'uomo poi ancora sta scritto allora l'Eterno Iddio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di esse e l'Eterno Iddio con la costola che aveva tolto all'uomo formò una donna e la menò all'uomo e l'uomo disse questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne e la sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne vedete quindi gli fu fatto gli fu fatta la donna come aiuto convenevole la donna è l'aiuto dell'uomo in questo caso la moglie Eva moglie di Adamo era un aiuto convenevole per Adamo quindi fu fatto prima Adamo e la moglie di Adamo Eva fu fatta per aiuto di Adamo quindi vedete se Eva aiuta l'uomo è chiaro che c'è una sorta di autorità sopra di Eva che è quella dell'uomo perché così Dio ha stabilito l'ha stabilito il Dio già già ancora prima che peccassero aveva già stabilito questo ma andando avanti ora vediamo quando la donna ha peccato cosa dice il Signore dopo che la donna peccò la donna e anche l'uomo peccarono lo leggiamo al capitolo 3 di Genesi al versetto 16 il Dio parla alla donna che peccò e gli disse alla donna disse io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza con dolore partorirai figlioli i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te vedete fu stabilito dopo il peccato che la donna commise furono stabilite queste cose che la donna avrebbe partorito con dolore ora io faccio una domanda alle sorelle che hanno partorito dei figlioli avete sì o no sentito le doglie e i dolori quindi se li avete sentiti e io per adesso non ho mai sentito donne forse fanno delle punture per non sentire il dolore va bene per non sentire le doglie eccetera so che sono dei dolori terribili so che sono dei dolori fortissimi ma quei dolori sono dovuti al fatto che Dio disse queste parole alla donna capite che ancora oggi a distanza di migliaia 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 di anni ecco che ancora le cose stanno così come Dio ha stabilito capite come Dio ha ordinato così avviene le donne ancora oggi partoriscono con dolore così avviene perché così Dio ha stabilito quel giorno lo stabilì vedete ha moltiplicato i dolori ha moltiplicato i dolori forse era già previsto perché l'uomo e la donna erano già fatti completi anche nei loro organi diciamo di riproduzione quindi un po' di dolore era forse previsto anche prima diciamo che peccasse sia Adamo che Eva ma qui dice ti moltiplicherò grandemente io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza vedete quindi c'è stato un aumento un aggravarsi di questi dolori quando ci sarebbe stata la gravidanza e quando avrebbe partorito e questi dolori si sentono ancora oggi cosa ci fa capire questo ci fa capire che quando Dio parla lui le fa le cose come le ha stabilite capite e Dio fa come ha stabilito un'altra cosa che Dio ha stabilito vicino a questi dolori è il fatto che la donna deve essere sottomessa all'uomo che l'uomo dominerà sulla donna sulla moglie sulla donna genere se una parte si adempia ancora e lì è Dio che opera per quale motivo oggi non si deve più non si deve più diciamo verificare non si deve più la donna sottomettere all'uomo non è possibile perché la parola di Dio deve essere messa in pratica in ogni cosa ora i dolori alla donna glieli fa venire il Signore le doglie del parto e Dio ha stabilito così e lui quello che deve fare lui quello che deve fare il Dio lui lo fa e lo fa secondo la sua parola mantenendo fede alla sua parola e così anche dobbiamo attenerci noi agli altre cose che Dio ha stabilito stabilite da Dio badate bene non le ha stabilite un uomo qua le ha stabilite il Dio e ha detto che l'uomo avrebbe dominato sulla donna e ha detto che la donna è stata fatta come aiuto convenevole all'uomo e ha detto poi sotto la grazia attraverso gli apostoli che la donna doveva essere sottomessa all'uomo sottomessa al suo marito l'ha detto sempre il Dio attraverso la sua parola confermando quindi ancora quello che lui aveva già stabilito sotto la legge al principio quando peccarono ad Ammedeva aveva già stabilito questo quindi è rimasto così anche sotto la grazia praticamente anche diciamo fa parte ancora di quelle parole che Paolo ha detto come anche dice la legge come anche fu dal principio praticamente la donna deve stare sottomessa all'uomo e questa sottomissione riguarda anche il fatto che non può insegnare la parola di Dio perché Dio così ha stabilito un altro passaggio adesso vediamo un altro passaggio un altro passaggio lasciato che Dio ha voluto che fosse scritto per le mani dell'Apostolo Paolo qui dobbiamo andare al capitolo 11 di prima Corinzi dove dove leggiamo sul velo che è un altro argomento questo del velo che è sempre attinente è un praticamente il velo è un segno perché per adesso abbiamo parlato della della sottomissione della donna all'uomo ma c'è anche un segno che Dio ha stabilito di questa sottomissione quando la donna prega sia se lo fa diciamo in assemblea in gruppo con altri e sia quando lo fa da sola la donna deve riconoscere quello che abbiamo detto finora che è soggetta che è sottomessa che deve stare sottomessa all'uomo e quindi deve mettere sul capo un segno di questa autorità che è sopra di lei questo segno è il velo non stiamo qui a disquisire velo trasparente velo grosso velo pesante velo bianco un velo semplice di un colore non sgargiante di una stoffa certo se è pesante si sente ma se è leggero si mette bene sul capo si deve mettere con apposite pinzette lì usate quello che volete ma bisogna che sia fermo sul capo non come quelle sorelle ogni minuto gli cade sul collo insomma ce l'hanno e non ce l'hanno quando si prega o profettizza è stabilito adesso lo andiamo a leggere che la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende così è stabilito da Dio e così bisogna fare perché guardate bene i comandamenti sono stati dati per essere praticati e chi li pratica ne avrà del bene davanti a Dio ne avrà del bene ma perché perché se noi credenti chiudiamo va bene gli occhi e le orecchie ai comandamenti di Dio quando poi avremo bisogno noi e grideremo perché abbiamo bisogno il Dio chiuderà le sue orecchie alle nostre richieste e noi non vogliamo che ciò avvenga capite quindi apriamo bene gli orecchi nostri apriamo i nostri occhi apriamo i nostri cuori all'osservanza di tutti i comandamenti di Dio possibilmente e poi possiamo andare fiduciosi con piena fiducia a Dio a chiedere quello di cui abbiamo bisogno che il Signore sarà attento a quello che noi domandiamo però se noi dispreziamo i suoi comandamenti le sue parole le gettiamo gli diamo un calcio e le buttiamo via lontano da noi quando poi avremo bisogno che cosa voi pensiate che faccia il Signore certo che Dio è misericordioso quante volte ha avuto misericordia di noi però stati attenti che chi disprezza volontariamente i suoi comandamenti il Dio poi saprà come agire nei suoi confronti quindi osserviamo i suoi comandamenti è chiaro che cadiamo tutti in molte cose però se noi disprezziamo i suoi comandamenti volontariamente gli diamo un calcio ai suoi comandamenti strappiamo le pagine prendiamo un pennarello e li cancelliamo perché non ci piacciono perché siamo ribelli e allora Dio ci darà quello che ci meritiamo eh badate bene badate bene che quello che è scritto è stato scritto per nostro ammaestramento è stato scritto perché questa è la volontà di Dio e chi sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma sprezza il Dio l'iddio che ha voluto che questi comandamenti che questi precetti venissero scritti quindi badate bene osserviamo i comandamenti di Dio in questo caso per il velo l'uomo deve ricordarsi sempre di pregare con il capo scoperto neanche un cappello neanche un velo non deve avere niente in testa l'uomo quando prega o profetizza invece la donna invece la donna deve portare sul capo quando prega o profetizza deve portare sul capo un segno dell'autorità da cui dipende e adesso lo leggiamo sta scritto al capitolo 11 di prima corinzi al versetto 2 or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si metta un velo poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio ma la donna è la gloria dell'uomo perché l'uomo non viene dalla donna ma la donna dall'uomo e l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo perciò la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende d'altronde nel Signore nella donna e senza l'uomo nell'uomo senza la donna poiché siccome la donna viene dall'uomo così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio giudicatene voi stessi è egli conveniente che una donna preghi di Dio senza essere velata la natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore mentre se una donna porta la chioma ciò è per lei un onore perché la chioma le è data a guisa di velo se poi ad alcuno piace essere contenzioso noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio quindi vedete non c'è qui un solo versetto ma c'è tutto un insieme uno studio apposito che l'Apostolo Paolo fa e manda a Corinto lo manda a Corinto per esortare i fratelli a insegnare i fratelli a non usare il velo quando pregano e il velo o il capo comunque a non coprirsi il capo quando pregano o profetizzano e le donne invece di avere il capo coperto vi faccio sapere che diciamo il cambiamento in queste parole la modifica di quel tempo fu quella che l'uomo doveva pregare senza avere il capo coperto non era quella che la donna dovesse pregare col capo coperto capite perché perché gli ebrei ad esempio gli ebrei prendendo ad esempio gli ebrei pregano pregavano e pregano sia gli uomini che le donne col capo coperto capite quindi la rivoluzione qui la riforma per quanto riguarda la preghiera e il capo coperto riguardava più che altro l'uomo che era l'uomo che non doveva pregare col capo coperto ma la donna invece doveva continuare a pregare col capo coperto questo è fondamentalmente la riforma con questo passaggio biblico però poi Paolo si sofferma maggiormente a spiegare il concetto il concetto per la donna perché perché sapeva bene il Signore che sarebbero venute delle donne ribelli e degli uomini insensati che avrebbero contrastato questo comandamento quindi Dio si è soffermato ha voluto lo Spirito Santo guidare l'Apostolo Paolo a scrivere a soffermarsi maggiormente su quello che riguardava la donna il capo coperto che riguarda la donna inizialmente qui abbiamo letto nei primi versetti abbiamo visto che il capo di ogni uomo è Cristo vedete e che il capo della donna è l'uomo il capo dell'uomo è Cristo quindi se l'uomo prega con il capo coperto o profettizza con il capo coperto disonora porta disonore al suo capo disubbidisce disonora disonora il suo capo che è Cristo invece il capo della donna è l'uomo ora cosa fa la donna se prega con il capo scoperto anche quando è da sola se prega con il capo scoperto e se profettizza con il capo scoperto disonora il suo capo che è l'uomo quindi tutte quelle donne che pregano con il capo scoperto non fanno altro che disonorare l'uomo disonora noi uomini ci portano disonore capite ci disprezzano disprezzano l'autorità disprezzano la parola di Dio disprezzano l'ordine che ha stabilito il Dio in una parola queste donne sono donne ribelli capite sono donne ribelli e gli uomini che non insegnano queste cose che sono scritte nella parola sono uomini anch'essi ribelli sono uomini insensati che non hanno l'autorità che Dio gli ha dato perché non hanno la forza di insegnare né alla loro moglie né agli altri membri della comunità a cui si trovano a parlare non è che stiamo lì andare noi a mettere il velo a tutte le donne che pregano però noi lo diciamo noi lo diciamo perché è anche questa parola di Dio c'è anche questo nel consiglio di Dio Giovanni ha detto che se si fossero scritti tutte le cose che Gesù ha detto e ha fatto la terra non avrebbe potuto contenere tutto quello che Gesù ha detto e fatto va bene ora in tutta quella massa di cose che si potevano scrivere Dio ci ha lasciato questo libro la Bibbia e in questo libro ci sono questi versetti sul velo quindi fratelli se sono state selezionate queste parole che rimanessero a noi per ammaestrarci e guidarci vuol dire che hanno il loro significato significato è quello del cuore della donna che deve essere sottomessa e assoggetta prima ai comandamenti di Dio prima alla parola di Dio e poi anche all'uomo perché così è stabilito quindi questo velo cosa manifesta il velo manifesta la ribellione che c'è nel cuore di una donna manifesta quello che una donna ha nel cuore una donna mite pacifica che non ha problemi legge che deve usare il velo quando prega usa il velo punto per lei la discussione è finita ma stiamo parlando di una donna pacifica una donna invece litigiosa cosa fa ma perché che differenza c'è tra me e l'uomo la ribellione non la carne il femminismo che ha portato l'emancipazione femminile che si agita se mi vedono quelli del mondo io non posso essere sottomessa all'uomo io sono uguale all'uomo capite quella è ribellione quella è caduta vittima del diavolo è schiava del maligno è stata fatta schiava dal maligno quindi vedete un piccolo velo un piccolo pezzo di stoffa che cosa fa manifesta quello che la donna ha nel cuore lo manifesta lo fa vedere lo fa vedere quindi il velo è importante non è che va usato per nascondere il proprio cuore agli uomini e a Dio va usato perché è comandato e quindi bisogna farlo bisogna fare bisogna fare quello che è scritto pacificamente tranquillamente serenamente ci è chiesto questo facciamolo a noi ci è chiesto di non usare a me io non avrei avuto problemi se la scrittura avrebbe invertito che l'uomo doveva pregare col capo coperto e la donna col capo scoperto ma per me non c'era non ci sarebbe stato nessun problema come non c'è un problema io devo stare soggetto alle autorità sto soggetto c'è un pastore sopra di me io voglio stare soggetto c'è un anziano su di me io voglio stare soggetto capite io sono soggetto a mio padre carnale io voglio stare soggetto a Dio alla sua parola voglio stare soggetto ho piacere di essere soggetto a queste cose per piacere all'indio vivente è vero che ha mandato il suo figliolo sulla croce a morire anche per me mentre io non me lo meritavo non mi meritavo nulla Gesù è morto per me e il suo sangue mi ha purificato da ogni peccato per quale motivo adesso lui mi ha dato tanto per quale motivo io adesso dovrei ribellarmi ribellarmi ai comandamenti di Dio uso il velo non uso il velo ma quale problema mica ci sta dicendo di andare a sacrificare il nostro figlio eppure voi sapete bene che è stato dato anche quest'ordine ad Abramo e Abramo per mostrare la sua fede la sua sottomissione a Dio ha preso il suo figlio e è andato a sacrificarlo è andato non ci stanno chiedendo di sacrificare qualcuno o di tagliarci un braccio noi o di toglierci neppure del sangue di mettere un velo in testa mi sembra che alle sorelle è chiesto di mettere un velo in testa niente di così niente di così difficile pesante solo che l'orgoglio l'orgoglio è quelle dure ci sono sorelle ci sono sorelle io parlo di sorelle perché quelle del mondo è chiaro che siano ribelli cioè io me l'aspetto che le donne non si sottomettano all'uomo quelle del mondo perché perché sono sono schiave del maligno il mondo giace nel maligno non mi posso aspettare una sottomissione all'uomo da parte di quelle donne che sono malvagie sono già risapute malvagie quello che io mi aspetto è che le donne cristiane si sottomettano a Dio si sottomettano alla parola di Dio e si sottomettano all'uomo perché così è stabilito da Dio però quelle donne e quelle sorelle che si sono fatte che sono vittime quindi del mondo che sono vittime anch'esse del maligno il loro orgoglio come gli stridono i denti non ce la fanno ad accettare questa cosa è difficile ma questo vedete l'orgoglio il proprio orgoglio è forte non riescono a sottomettersi ecco perché contrastano e trovano mille scuse ma c'era la cultura del tempo oggi non è più così siamo tutti in Cristo non c'è né giudeo né greco ma quel passaggio lì riguarda la salvezza in Cristo è chiaro che viene salvata la donna in maniera esattamente uguale come viene salvato l'uomo la salvezza la nuova nascita viene prodotta da Dio nel cuore di un uomo così nella stessa maniera come viene prodotta nel cuore di una donna avete capito quel passaggio lì non può essere preso per dimostrare che tra l'uomo e la donna non ci sono più differenze perché come abbiamo come abbiamo anche già detto ad esempio gli uomini possono insegnare la parola di Dio solo se gli è dato di insegnare il ministro viene costituito da Gesù non tutti sono uguali perché c'è chi è un ministro chi è un altro ministro e chi non riceve il ministerio ma altri incarichi altri uffici altri assistenze altre cose non siamo tutti uguali nel senso di incarico nella chiesa capite nel senso di incarico nella chiesa non siamo tutti uguali così come nell'autorità non siamo tutti uguali e per l'uomo sono stabilite delle cose e per la donna ne sono stabilite un'altra ma questo non modifica la salvezza attenzione non è che dicendo così stiamo dicendo che l'uomo ha una salvezza diversa dall'uomo che l'uomo ha una salvezza diversa dalla donna stiamo stiamo dicendo che i compiti e la condotta e il modo di comportarsi dell'uomo deve essere conforme alla scrittura in una certa maniera quello della donna deve essere come scritto anche quello della donna e se è scritto che deve pregare col velo deve pregare con il velo la salvezza è uguale per l'uomo non c'è una salvezza migliore per l'uomo è secondaria per la donna no la salvezza è esattamente uguale e quindi quando nelle scritture leggete che in Cristo non c'è né giudeo né greco e lì sta parlando della salvezza però è certo che non c'è differenza non è che una prostituta viene salvata meglio di uno che si è sempre comportato bene la salvezza poi alla fine è sempre uguale capite la salvezza è una rigenerazione spirituale è una purificazione dei peccati vengono purificati a chi mille a chi cento a chi duecento capite faccio dico dei numeri così ma la salvezza poi è una purificazione totale e quello è uguale per tutti è uguale avviene nella stessa maniera per tutti ma il servizio e l'osservanza della parola di Dio può essere diversa dall'uno all'altro i giovani devono stare soggetti agli anziani quando sei giovane devi stare soggetto agli anziani quando sarai anziano tu sarai l'autorità e i giovani saranno soggetti a te capite? quindi cambiano vedete le circostanze possono cambiare no? quindi così è stabilito dal Signore così dobbiamo così dobbiamo fare cioè non ci devono essere resistenze ma non non siamo noi che le diciamo queste cose queste cose stanno scritte nella Bibbia ve le ho lette e adesso le andiamo ancora a rivedere qui vedete il versetto 4 11.4 di Prima Corinzi dice ogni uomo che prega o profettizza a capo coperto fa disonore al suo capo quindi l'uomo non può assolutamente pregare col capo coperto ma ogni donna questo ma vuol dire in contrapposizione a quello che è stato detto precedentemente eh e contrariamente a quanto detto precedentemente quel ma vuol dire quel ogni donna che prega o profettizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo vedete è scritto perché è lo stesso che se fosse rasa c'è una donna che prega senza avere il velo qui Paolo sta dicendo è come se avesse i capelli rasati a zero e chi è che si rase i capelli a zero sono i ribelli sono quelle persone o hanno fatto un voto quella è un'altra cosa o sono delle persone ribelli che non si sottomettono all'autorità perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli sì perché qui Paolo vedete lancia una provocazione no? tu donna tu sorella non vuoi usare il velo e allora fatti tagliare anche i capelli te li devi far rasare a zero è una vergogna per te farti rasare i capelli a zero sì che è una vergogna e allora mettiti il velo su quei capelli su quella chioma mettiti il velo perché così è stabilito da dire ma se è una cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si mette un velo vedete poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio ma la donna è la gloria dell'uomo infatti Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza no? mentre la donna proviene dall'uomo abbiamo letto prima anche in Genesi ma la donna dall'uomo e l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo quindi è la donna che è stata creata in assistenza come aiuto convenevole all'uomo quindi quel velo cosa fa? fa ricordare quello che Dio ha fatto è una ricordanza è una sottomissione un mostrare di aver capito determinati passaggi biblici io oggi ve li sto esponendo affinché voi li capiate per poterli praticare avendoli compresi bene capite? non per tradizione non perché le altre sorelle lo usano ma dovete capire bene per quale motivo si usa il velo qui dice ad esempio più avanti dice sempre l'Apostolo Paolo dice perciò la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende quando preghiamo vabbè attorno a noi ci sono sempre gli angeli no? che ci proteggono vicino a noi c'è almeno un angelo a volte anche due che ci proteggono da ogni mare e questo è sicuro ma quando preghiamo ci sono sempre gli angeli vicino a noi va bene? e qui dice a motivo degli angeli che ci stanno osservando che ci guardano perché noi siamo uno spettacolo per gli angeli gli angeli ci osservano ci guardano vogliono vedere allora noi rendiamo testimonianza anche agli angeli adesso vediamo vi faccio capire questo concetto anche leggendovi un passaggio che c'è in Pietro prima Pietro capitolo 1 versetto 12 dice e fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose sta parlando dei profeti antichi e fu rivelato loro che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo guardate cosa dice qui nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro gli angeli hanno un certo interesse di capire tutto quello che Dio sta facendo quello che sta succedendo nella terra alcuni angeli talmente presi dal guardare quello che facevano gli uomini e le donne vi ricorderete sempre in Genesi cosa hanno fatto si sono presi loro stessi le donne e se le sono sposate le hanno prese come mogli le hanno presi e hanno fatto quello che hanno voluto hanno abbandonato la loro dignità primiera di angelo per prendere una per scendere diciamo di dignità e prendere una dignità umana che è inferiore a quella dell'angelo quindi anche gli angeli noi anche agli angeli dobbiamo rendere quasi conto di quello che facciamo gli angeli sono vicini a noi e quindi dobbiamo sempre considerare anche quando facciamo voglio dirla in questa maniera quando facciamo delle marachelle e non ci vede nessun uomo e sappiamo che Dio ci vede certo ma ci vedono anche gli angeli sono vicini a noi non c'è mai niente che noi facciamo senza che ci veda qualcuno perché vicino a noi ci sono sempre degli angeli quindi quando le donne pregano così come quando preghiamo anche noi uomini ci sono gli angeli che guardano e osservano e si ricordano di questi passaggi biblici e guardano le donne se usano il velo oppure no e quindi quindi a motivo degli angeli a motivo degli angeli una donna deve usare il velo perché quando stai pregando anche da sola nella tua cameretta ci sono gli angeli vicino a te sorella quindi quando usi il velo gli angeli ti stanno guardando e approvano certamente perché osservi i comandamenti di Dio riconosci l'autorità che Dio ha stabilito e riconosci l'autorità che ha messo sopra di te che è l'uomo è semplice riconoscere osservare i comandamenti di Dio vuol dire riconoscere l'autorità l'autorità di Dio e l'autorità posta superiore alla donna che è l'uomo e quindi e quindi per la donna alcuni dicono ah ma io ho la chioma lunga la chioma lunga e mi fa da velo allora la chioma lunga è un onore per la donna mentre è un disonore per l'uomo ma non sostituisce il velo la chioma non sostituisce il velo la chioma conferma che c'è bisogno del velo perché la chioma conferma che c'è una certa differenza tra l'uomo e la donna a questa chioma bisogna aggiungere il velo infatti Paolo non dice quando dice al versetto 6 dice perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli vedete se se i capelli lunghi fossero la sostituzione del velo Paolo non poteva dire queste parole capite se non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli ma se è una cosa poi dice ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si metta un velo dove lo deve mettere il velo sopra la chioma sopra i capelli quindi i capelli quando dice al versetto 15 mentre se una donna porta la chioma c'è per lei un onore perché la chioma le è data a guisa di velo a guisa di velo non vuol dire in sostituzione del velo ma vuol dire a segno del velo come se fosse un velo a conferma del velo infatti in un altro punto è scritto che il diavolo va attorno a guisa di leon ruggente per vedere chi possa divorare a guisa di leon ruggente non vuol dire che il diavolo è un leone ruggente capite non è un leone ma va in giro come se fosse un leone cercando di sbranare qualcuno capite quindi quindi i contenziosi vi dico questo perché i contenziosi si attaccano a tutte le cose si attaccano ad ogni parvenza di parola che possa venirgli incontro ma badate bene che i contenziosi non parlano per amore di verità non parlano per dare gloria a Dio non parlano per osservare i comandamenti di Dio ma parlano con un senso ribelle per contrastare quello che è scritto nella parola capite quindi c'è differenza tra chi parla in difesa di quello che è scritto e tra quelli che invece parlano contro quello che è scritto e naturalmente i ribelli sono anche contenziosi qui lo leggiamo vedete al versetto 16 è scritto se poi ad alcuno piace di essere contenzioso noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio vedete quindi Paolo non era contenzioso Paolo esortava i santi e le sorelle a non essere contenziosi ma ad osservare i comandamenti di Dio a osservare quello che Dio aveva stabilito perché nelle chiese di Dio le chiese di Dio non dovevano essere contenziose non dovevano contendere contro la verità naturalmente perché contendere contro il nostro creatore non è cosa buona contendere contro colui che ha scritto queste parole che ha voluto che queste parole fossero scritte e osservate parlare contro queste parole e parlare contro Dio capite non contro un uomo ma è parlare contro Dio infatti più avanti sempre al capitolo 14 Paolo dice al versetto 14 37 dice se qualcuno si stima essere profeta spirituale riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore capite Paolo non è che scriveva così le sue opinioni se volete farlo fatelo se no fate come volete va bene lo stesso no non diceva così Paolo diceva che se voi siete spirituali dovete riconoscere perché le cose che io vi scrivo Paolo ha detto ha scritto sono comandamenti del Signore non sono cose di secondaria importanza ma sono comandamenti del Signore e quindi i comandamenti del Signore vanno osservati vanno osservati i comandamenti del Signore non è che vanno vanno disprezzati chi li disprezza non disprezza un uomo ma disprezza colui che ha dato quei comandamenti appunto quindi disprezza il Dio chi chi parla contro i comandamenti di Dio chi li disprezza chi chi li getta via chi se li getta dietro le spalle i comandamenti di Dio disprezza il Dio quindi quando avrà quando andranno queste persone a invocare Dio per una loro necessità il Dio se li getta loro dietro le spalle le loro richieste se le getterà nelle spalle dietro le spalle perché? perché l'hanno fatto loro con Dio perché Dio dovrebbe a sua volta ascoltare la preghiera dei ribelli capite? quindi a osservare i comandamenti di Dio a osservarli ci si trova bene fratelli perché quando poi noi grideremo a Dio che abbiamo bisogno egli ci ascolterà il suo orecchio sarà attento al grido dei giusti e questo è importante quindi anche questa sottomissione a Dio anche per quanto riguarda le sorelle con il velo e essere soggette all'uomo è una cosa buona che piace al Signore infatti ad esempio per le mogli è scritto chiaramente noi leggiamo ad esempio in Efesini al capitolo 5 al versetto 22 leggiamo mogli siate soggette ai vostri mariti come al Signore guardate questo come al Signore quindi le sorelle devono stare soggette ai propri mariti come se fosse il Signore capite? poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa egli che è il Salvatore del corpo ma come la Chiesa è soggetta a Cristo così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa in ogni cosa non vuol dire in ogni cosa in ogni cosa vuol dire in ogni cosa che però non esce dalla volontà di Dio perché più avanti in Colossesi sempre leggiamo capitolo 3 versetto 18 mogli siate soggette ai vostri mariti come si conviene nel Signore vedete come si conviene nel Signore cioè se il marito ordina la moglie di andare a prostituirsi o di andare a rubare o di andare a uccidere è chiaro che non deve obbedire capite? questo vuole dire essere soggette al proprio marito come si conviene nel Signore questo vuole dire quindi se se il marito comanda la moglie di fare il male non lo deve fare e in quel caso non deve assoggettarsi al comando del marito però in tutte le altre cose che in tutte le altre cose che diciamo la moglie si deve assoggettare al marito guardate bene che la famiglia va meglio cioè se le mogli imparassero a stare soggette al proprio marito naturalmente il marito deve fare il proprio dovere cioè non è che il marito può fare quello che gli pare a lui il marito seguono altri discorsi ma se il marito comunque fa il suo dovere e la moglie fa il suo e si mantiene soggetta al marito le famiglie sono indistruttibili in questa maniera cioè si forma una tale unione e collegamento una tale collaborazione no? una tale perché ognuno mantiene il suo posto il marito non si sente sempre minacciato nella sua posizione e la moglie non continua a dare addosso al marito grinandogli contro e usando autorità per infastidirlo e per dargli fastidio e per sminuire la sua posizione per elevarsi a chissà quale posizione qui Dio ha stabilito che l'uomo è il capo della donna e quindi così l'ordine deve andare perché l'ha stabilito Dio badate bene e se Dio ha stabilito così io sono sicuro perché così io lo vedo lo so per esperienza lo so anche per esperienza di altre famiglie che la donna ha proprio bisogno di un uomo vicino capite perché la donna è fatta diversamente da un uomo un uomo ha necessità di avere una donna vicina a sé che faccia determinate cose e l'uomo ne fa un'altra ma la donna pure ha bisogno di un uomo in una certa maniera perché insieme si completano formano un tutt'uno un tutt'uno che insieme sono qualcosa di più completo capite la donna è l'aiuto dell'uomo e l'uomo è la guida della donna e diciamo quello che porta avanti va avanti alla donna e la donna ne ha bisogno ne ha bisogno perché perché è stato stabilito così da Dio non perché c'è un'inferiorità dovuta a chissà che cosa è Dio che ha stabilito queste cose per fare in modo che si fosse uniti insieme si fosse uniti perché non sono uguali se fossero uguali tutti farebbero la stessa cosa avrebbero gli stessi pensieri le stesse occupazioni gli stessi desideri e non ci sarebbe più cosa si sta assieme a fare se c'è concorrenza ecco non deve esserci la concorrenza in famiglia tra uomo e donna non deve esserci nessuna concorrenza ognuno deve stare al suo posto e se uno sta al suo posto guardate bene volevo leggervi questo passaggio per poi concludere in prima Pietro se lo leggiamo in prima Pietro al capitolo 3 al capitolo 3 i primi sei versetti che ci fanno capire alcune cose adesso li leggiamo parimente voi mogli siate soggette ai vostri mariti affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli nel mettersi attorno dei gioielli d'oro nell'indossar vesti sontuose ma l'essere occulto del cuore freggiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo e così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio stando soggetti ai loro mariti come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore della quale voi siete ora figliole se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno volevo soffermare la vostra attenzione su quello che dice qui Pietro che dice se anche ve ne sono che non ubbidiscono la parola perché diciamo ci possono essere dei mariti non convertiti i mariti non convertiti qui dice guardate che testimonianza la sottomissione della donna al marito non convertito è una testimonianza potentissima naturalmente sempre come si conviene nel Signore non è che anche se non convertito vi dice di fare delle cose sbagliate voi le sorelle devono fare no però nelle cose che riguardano il Signore nelle cose che non contrastano la volontà di Dio guardate cosa succede e siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa quindi benché donne cristiane anche se il marito non è credente attraverso quella loro condotta rispettosa di sottomissione al marito e diciamo casta pura con quello spirito benigno e pacifico che una donna deve avere senza fare guerra al marito di continuo che non lo lascia in pace ecco ecco che quello è una grande testimonianza un tale comportamento di una donna è di grande testimonianza e quindi vengono conquistati anche senza parola cosa vuol dire vuol dire che nel mondo davanti al mondo la testimonianza che la donna deve essere sottomessa al marito è una grande testimonianza è una grande luce che si accende in mezzo a questo mondo di tenebre capite è importantissima questa cosa perché è come una luce che si accende nelle tenebre perché queste donne rimangono sconcertate gli uomini non credenti rimangono sconcertati a vedere questo rapporto che è il rapporto corretto che Dio ha stabilito ed è di grande testimonianza infatti molti matrimoni non è che si rovinano soltanto perché un uomo va con un'altra donna e una donna va con un altro uomo molti rapporti si rovinano perché la donna fa guerra al marito il marito non ne può più e se ne va via non ce la fa non si sottomette la donna cioè non lo lascia in pace io sento anche molti colleghi che non trovano pace che la moglie li stressa continuamente li appesantisce li fa una guerra cioè diventano pesanti perché perché non lo so maltratano il marito cominciano a usare autorità cominciano a gridargli contro cominciano e non devono farlo assolutamente dopo magari quello prende perché non è credente se ne va e dopo la moglie rimane da sola quindi questa unione familiare questo tipo di di rapporto familiare che c'è tra marito e moglie che deve esserci anche nei figli soggetti ai loro genitori e che ci deve essere anche tra la moglie che deve essere soggetta al marito e che il marito naturalmente si deve condurre nella maniera corretta come è scritto non che fa quello che gli pare ecco che questa è la testimonianza familiare è la luce più grande che si possa accendere in questo mondo di tenebre capite? vale molto più che tante giorni di evangelizzazione che tante parole di evangelizzazione una buona testimonianza della nostra condotta familiare anche è una buona testimonianza è una luce che si accende una luce che si accende in questo mondo di tenebre di cui il mondo ha bisogno di vedere questa luce perché purtroppo il maligno attraverso la massoneria attraverso falsi profeti attraverso falsi dottori sta portando distruzione dentro la chiesa e sta insegnando alle donne ad essere ribelli all'uomo a insegnare cose stolte falsità insegnamenti inutili non pratici che non danno conoscenza che non ti dicono come ti devi comportare non giudicano non fanno non dicono niente praticamente e questa è l'azione del maligno dentro la chiesa distruggere la chiesa attaccare la famiglia l'ordine che Dio ha stabilito affinché una famiglia vada avanti negli anni essendo felice qui Pietro addirittura dice che Sara chiamava Abramo il suo signore ubbidiva da Abramo chiamandolo signore però badate bene di Sara io adesso vi faccio leggere per chiudere un versetto di Sara se noi andiamo a leggere al capitolo 11 di Ebrei dove si parla degli esempi di fede Sara è vero si era sottomessa al marito obbediva al suo marito però guardate qui capitolo 11 di Ebrei versetto 11 eh guardate per fede per fede Sara anchella benché fuori di età ricevete forza di concepire perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa ma lo vedete fratelli e sorelle Sara è posta come esempio di fede è scritto qui il suo nome vedete eppure era sottomessa questa sottomissione al marito a suo marito Abramo non ha annullato la sua personalità capite non so se riuscite a vedere quello che voglio farvi vedere cioè una persona che si sottomette ad un altro non vuol dire che la sua personalità viene schiacciata e scompare capite ma no tiene solo il suo posto non scompare nessuno qui un domestico che si sottomette al suo padrone non scompare appare per l'opera che lui compie capite sono due compiti diversi quello del padrone è quello del suo domestico così come tra moglie e marito la moglie non scompare davanti alla figura del marito assolutamente no sono soltanto due figure diverse capite niente non c'è niente e guardate qui la figura di Abramo è citato come padre della fede ma è citata anche Sara come esempio di fede eppure Sara obbediva ad Abramo obbediva ad Abramo e lo chiamava signore questo non è che voglio dire adesso che chiamate signore il marito o fratello o tutti gli uomini che incontrate voglio farvi capire sorelle che anche essendo sottomessi al marito non scompare la vostra personalità anzi viene apprezzata di più capite prende il suo giusto valore e questo è importante e qui la scrittura lo insegna perché Sara vedete è posta come esempio di fede non è che scomparsa c'è solo Abramo non c'è solo Abramo ma c'è anche Sara gloria a Dio perché aveva fede in Dio e si era sottomessa al suo marito e quindi è stata ricordata è stata ricordata anche Sara e così si guarda la condotta anche delle sorelle che ci sono oggi che ci saranno sempre che ci sono sempre state in mezzo alla chiesa la loro figura non è stata sommersa dal marito che aveva autorità su di lei anzi è stata vista secondo lo giusto nella maniera corretta che doveva essere vista capite non in concorrenza col marito praticamente non in concorrenza con il marito ma ognuno sta al suo posto questo questo era il messaggio che oggi volevo portarvi affinché sia voi fratelli vi comportiate naturalmente nella maniera corretta con la vostra moglie e con le sorelle col quale vi troverete ad avere a che fare e voi sorelle e sorelle giovani sappiate quello che dovete a cui andate incontro e le sorelle che sono già sposate quelle lì devono sottomettersi ai loro mariti se non l'hanno già fatto devono cominciare a farlo perché la loro condotta se non sono credenti li conquisterà se sono già credenti li fortificherà nella loro posizione e anche voi acquisterete un grande valore davanti al mondo e davanti all'interno anche all'interno della stessa chiesa quindi non c'è niente non c'è niente non c'è niente di dispregievole nel sottomettersi a qualcuno che Dio ha costituito come autorità siamo tutti sottomessi a qualcuno quindi non ce n'è neanche uno che non è sottomessi a qualcun altro e questo non è non è portare disprezzo cioè non è disprezzo non è non è se uno è sottomesso ad un altro non è non c'è niente di dispregievole in questa sottomissione ognuno deve stare al suo posto perché Dio ha stabilito ogni autorità e quindi ha stabilito anche l'autorità sopra la donna che è l'uomo quindi ognuno deve stare al suo posto se ognuno sta al suo posto le famiglie vanno meglio e la chiesa ne avrà grande beneficio e il mondo vedrà la luce che risplende all'interno della chiesa e in ogni famiglia cristiana a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén